Al via i test sierologici per il personale scolastico della provincia BAT e quanto comunicato in prossimità del ritorno a scuola dal Dipartimento di Prevenzione della ASLBT di concerto con i medici di base. A partire da oggi, martedì 8 settembre, sarà possibile per il personale docente effettuare il test sierologico per la valutazione del Covid-19 anche presso la sede centrale del Dipartimento di Prevenzione in Viale Trentino 79 ad Andria. Così come previsto dalle disposizioni ministeriali e regionali, la ASLBT nei giorni scorsi ha distribuito più di 8.000 dosi di test sierologici presso i distretti sociosanitari per la capillare distribuzione ai medici di base incaricati di somministrare il test ai docenti che dovessero fare richiesta. L'offerta è gratuita e il test è facoltativo. Per completare l'offerta, il Dipartimento di Prevenzione garantisce la somministrazione del test al personale scolastico docente non in servizio presso gli istituti privati paritari, al personale scolastico docente non in servizio presso gli istituti statali e non assistito da medico di base poiché fuorisede e al personale scolastico docente non in servizio presso gli istituti pubblici in cui i medici di base non aderiscono allo screening preventivo. Per effettuare il test presso il Dipartimento di Prevenzione è necessario prenotare chiamando il numero dedicato della struttura. In tal caso i test saranno effettuati esclusivamente in Viale Trentino ad Andria dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato mattina dalle 9 alle 12.30.